Siamo in un luogo importantissimo del convento di San Giovanni Rotondo. Qui, la mattina del 23 settembre del 1968, su questa poltrona, Padre Pio salì al cielo, lasciò questa terra, ma la sua presenza è sempre viva e continua ad esserlo per tutti noi. In questo luogo che ha visto la presenza di tanti fedeli, di tanti figli spirituali, e anche oggi continua ad essere meta di pellegrinaggio e di affidamento allo stesso Padre Pio. Allora noi in questo luogo, tra qualche istante, avremo modo anche di rivivere insieme il beato transito di Padre Pio da Pietrelcina. Da questo luogo volevo affidare a Padre Pio tutte le preghiere, tutti i timori, tutte le preoccupazioni, così come facevano in vita i suoi figli spirituali. E vogliamo farlo anche noi quest'oggi, con una delle tante preghiere che sicuramente anche voi conoscete, e che vogliamo affidare a lui. Padre Pio, io non so parlare con Gesù come parlavi tu, io non so amarlo come lo amavi tu, io non so pregarlo come lo pregavi tu. Perciò ti prego, parla tu con lui, amalo tu, pregalo tu per me. Intanto, vieni, dammi una mano, e insieme camminiamo verso Gesù. Ma lungo la strada, ti prego Padre Pio, insegnami a parlare con Gesù, insegnami ad amarlo, insegnami a pregarlo come facevi tu. E quando il labbro tace, e tace il cuore, e tace l'anima, e dentro e fuori di me, e spenta ogni luce, Padre Pio, ti prego, fa che io senta la tua voce, e nella tua voce io senta la voce di Gesù.